Musica Così come era avvenuto nel 2021, anche nell'anno in corso, il primato delle crociere nel Mediterraneo si giocherà al photo finish tra il porto di Civitavecchia e quello di Barcellona. Finora ha sempre avuto la meglio lo scalo catalano, che lo scorso anno si impose per soli 2.000 passeggeri in più, ma quest'anno potrebbe arrivare il sorpasso. Un altro arrivo in volata, ma più significativo rispetto a quello dello scorso anno, perché stavolta si viaggia su volumi di passeggeri molto più grandi e ancora testa a testa tra i porti di Civitavecchia e Barcellona per il primato nel Mediterraneo, nel settore delle crociere. Nel 2021, anno pesantemente condizionato dalla pandemia, con un movimento ridottissimo di turisti, lo scalo marittimo catalano ebbe ancora una volta la meglio, confermando una leadership mai scalfita. Una conferma che arrivò sul filo di lana, visto che Barcellona chiuse i 12 mesi con 521.000 crocieristi contro i 519.000 di Civitavecchia, quindi appena 2.000 in più. Nel 2022 si è tornati quasi ai livelli pre-pandemici e la lotta rimane comunque accesissima, visto che nel terzo trimestre dell'anno Civitavecchia ha praticamente colmato il gap, che la vedeva indietro di poco meno di 40.000 unità dopo i primi sei mesi. Al 30 settembre scorso, infatti, il porto spagnolo continuava a guidare la classifica con 1.660.000 crocieristi, soltanto 4.000 in più rispetto al porto di Roma, che nei primi nove mesi dell'anno ha raggiunto quota 1.656.000. E siccome il mese di ottobre e anche quello di novembre stanno facendo registrare numeri molto significativi, il sorpasso, atteso da sempre, potrebbe davvero concretizzarsi entro il prossimo 31 dicembre. Si tratterebbe di un risultato dal valore certamente simbolico, ma comunque importante nel panorama internazionale, perché suggellerebbe il ruolo assunto dallo scalo Civitavecchiese nel mercato delle crociere. Un risultato che avrebbe comunque la sua importanza anche sotto il profilo strettamente economico per la città. È vero, non si riesce a intercettare la gran parte dei croceristi, ma quanti girano e si muovono per la città, insieme ai membri degli equipaggi, consentono di respirare a pieni polmoni a molti esercizi commerciali e di ristorazione del centro cittadino. Senza contare gli introiti che restano dentro il porto, alle agenzie e alle imprese marittime e a Molo Vespucci in primis. Negarlo sarebbe assolutamente scorretto e lontano dalla realtà. Diverso il discorso se si affrontano il problema dell'inquinamento atmosferico e del rapporto dei signori delle crociere nei confronti della città che li accoglie e che gli ha garantito una concessione in esclusiva quarantennale. Nel primo caso il dibattito è aperto. Nel secondo, alla luce del nulla, in termini di sostegno alle attività sanitarie, sociali e culturali di Civitavecchia, è meglio continuare a stendere non un velo, ma un piumone pietoso. Anche perché la responsabilità di questa totale mancanza di vicinanza alle esigenze della città da parte di chi altrove elargisce fondi, contributi e sponsorizzazioni a piene mani, non è solo dei colossi delle crociere e della società che li rappresenta in sede locale. Intanto domani approda Civitavecchia Seascape, l'ultima nata del gruppo MSC, varata mercoledì scorso a Monfalcone, nel bacino di Fincantieri, alla presenza del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Matteo Salvini. Lunga 339 metri, larga 41 e alta 76, Seascape ha una stazza lorda di oltre 170.000 tonnellate e 2.270 cabine che possono contenere più di 5.600 ospiti e i 1.658 membri dell'equipaggio. La Seascape rappresenta la seconda unità di classe Seasade IVO e diventerà l'ammiraglia della flotta MSC Crociere. Il miliardo di euro di investimento effettuato, si legge in una nota della compagnia armatoriale, rientra in un pacchetto di 7 miliardi complessivi per la fornitura di 10 navi. Numerose le funzionalità a bordo, oltre ai 13.000 metri quadrati di spazi esterni, con lounge bar e ristoranti all'aperto, piscine e aree per rilassarsi e prendere il sole. Nuovo incendio e il terzo in 14 anni di attività all'interno della centrale a carbone di Torre Valdaliga Nord. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso e a quanto sembra avrebbe interessato uno dei mulini all'interno dei quali viene triturato il carbone. Le fiamme avrebbero investito anche i nastri trasportatori e l'impianto è stato di conseguenza bloccato. A far scattare l'allarme gli efficienti rilevatori di monossido di carbonio presenti nella centrale, che hanno quindi consentito l'immediato stop delle operazioni. Enel, in una nota, ha spiegato che il problema ha riguardato un nastro trasportatore e che lo stesso è stato risolto prontamente dal personale tecnico della centrale, sottolineando che Torre Valdaliga Nord è attualmente in funzione. A quanto sembra, proprio per consentire la sostituzione dei pezzi andati danneggiati durante l'incendio e per poter riprendere la produzione nel gruppo interessato, attualmente l'impianto non sta funzionando a pieno regime. Uno dei tre gruppi era già oggetto di manutenzione per far fronte alle nuove richieste di maggior produzione arrivate dal governo in seguito alla crisi energetica internazionale. A questo si è aggiunto adesso quello nel quale si sono sviluppate le fiamme. Continua a calamitare l'attenzione del pubblico televisivo di tutta Italia la vicenda dei presunti maltrattamenti di una anziana signora di Civitavecchia nei confronti del marito novantenne. Ormai ogni giorno il caso viene trattato nei programmi televisivi nazionali e ieri pomeriggio si è giunti al massimo della contemporaneità tra la vita indiretta e pomeriggio 5. Civitavecchia riempie i pomeriggi degli italiani. È ormai diventato un tormentone del preserale televisivo la vicenda dei presunti maltrattamenti dell'anziana moglie all'altrettanto anziano marito che tiene banco da giovedì della scorsa settimana da quando cioè i carabinieri hanno fatto scattare la denuncia nei confronti della donna. Come spesso avviene in questi casi la notizia prima trattata solamente in ambito locale ha poi cominciato a fare il giro delle agenzie di stampa arrivando nelle redazioni delle trasmissioni della cosiddetta TV verità ovvero di quei programmi che sia durante il mattino che nel pomeriggio intrattengono il popolo degli anziani e delle casalinghe che si trovano in casa. Quale migliore storia da raccontare quindi se non quella che riguarda due anziani con peraltro la donna nei panni del presunto carnefice e l'uomo in quello della presunta vittima? Ieri si è poi raggiunto l'ACME visto che nello stesso momento su entrambe le trasmissioni di punta del preserale ovvero la vita in diretta sul Rai 1 e pomeriggio 5 sull'ammiraglia delle reti Mediaset la vicenda veniva trattata in contemporanea. Sul Rai 1 veniva ricostruita per l'ennesima volta la vicenda e mostrate nuove immagini a detta dei cronisti inedite riguardanti lo sgabuzzino dove sarebbe stato tenuto l'anziano durante la notte. Su Canale 5 Barbara Durso intervistava a lungo il figlio della coppia in pratica colui che ha fatto esplodere il caso andando a denunciare ai carabinieri e alla polizia locale la situazione in cui si trovava il padre. E nelle ultime ore da un doloroso caso di cronaca nera la vicenda si sta trasformando in un violento scambio di accuse tra madre e figlio con sullo sfondo tanto per non farsi mancare nulla questioni di carattere economico. Termina nelle prime ore del pomeriggio l'allerta meteo il terzo lanciato nell'arco di soli tre giorni dal Dipartimento della Protezione Civile. A poco più di 48 ore dalla bomba d'acqua che nella serata di martedì ha investito cività vecchia provocando allagamenti in diverse parti della città ieri pomeriggio il centro funzionale regionale ha lanciato un nuovo allarme effettuando la valutazione dei livelli di allerta a criticità indicando il colore giallo. C'è da dire che rispetto a quanto avvenuto martedì sera nel corso della notte e delle prime ore del mattino non si sono avuti fenomeni particolarmente intensi fatta eccezione per il forte vento proveniente dai quadranti occidentali. Prima trasferta fuori regione per la NCC Vitavecchia in serie A2 domani alle 17.30 i Rosso Celesti faranno visita alla piscina delle Nayadi per affrontare il neopromosso Pescara. Di fronte alla squadra di Aurelio Baffetti e Marco Pagliarini un'avversaria senza particolari apici ma con un gruppo coeso e collaudato. Romiti e compagni si presenteranno in Abruzzo fieri del primo successo stagionale e danno le carte per poter acciuffare anche i primi punti lontano da casa. Ancora uno scontro salvezza casalingo per la 3 e PC Civitalad in serie B2 di volley femminile per le 17.30 di domani pomeriggio porte aperte al Palasport in Solera Tamagnini per la gara contro Grosseto. Solo un punto separa le due formazioni a vantaggio delle maremmane. La squadra di Luca Oggioni è chiamata ad una prova e possibilmente da una vittoria per dare un segnale ed evitare che la situazione in classifica possa peggiorare ulteriormente. Dopo due trasferte consecutive in terra siciliana concise purtroppo con altrettante sconfitte la finestra perfetta a Flavioni torna sul parquet amico del Palasport Tamagnini in Solera. Nel quadro della quinta giornata di andata del campionato di serie A2 femminile le ragazze allenate da Patrizio Pacifico ospitano il Conversano che le precede di due punti in classifica generale. Vittoria d'obbligo per riprendere una posizione di classifica più tranquilla. Interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive e dare un po' di respiro in classifica con questo spirito domani alle 20 la Stemar 90 cestistica andrà a Frascati formazione che verrebbe agganciata in classifica a quota 6 se dovesse giungere la bella notizia della vittoria. Rossoneri comunque ancora a ranghi ridotti a causa di infortuni e problemi vari. Gara da non fallire per la futsal Civitavecchia per potersi riportare nelle zone che contano nel girone B di serie C1 di calcio a 5 maschile. Domani alle 15 i nerazzurri saranno ospiti del campo del Valencia penultimo con soli 5 punti. Sembrerebbe una missione facile per il gruppo di Umberto Di Maio che in questa stagione ha però dimostrato di viaggiare spesso sulle montagne russe. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube oltre che su nostro sito www.trcgiornale.it 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 Grazie a tutti.